Gentili telespettatori, buona giornata. Per quanto riguarda il Covid, l'Organizzazione Mondiale della Sanità dice che la variante Centaurus è più contagiosa e cattiva delle altre e quando emerge dai primi studi sulla nuova Omicron BA 2.75. E la nuova variante indiana, nota come Centaurus, sarebbe più contagiosa e più cattiva delle altre Omicron 4, 5, 3. Studi preliminari di laboratorio indicano un vantaggio di crescita relativo a questa 2.75 rispetto alla BA 2 e la BA 5.2. Inoltre vi è un'indicazione di maggiore fusogenicità, replicazione più efficace nelle cellule polmonari e maggiore patogenicità in un modello animale di criceto rispetto a BA.2. Lo evidenzia l'Organizzazione Mondiale della Sanità in un focus sulle varianti nell'aggiornamento epidemiologico settimanale, precisando che sono necessari ulteriori studi per confermare questi risultati preliminari. Questa sottovariante Omicron, segnalata a partire da maggio del 2022, è al momento sotto monitoraggio. presenta 9 mutazioni aggiuntive nella proteina Spike rispetto all'originaria Omicron 2, BA.2. Almeno una di queste mutazioni è stata associata alla fuga immunitaria delle varianti precedenti. Al 15 di agosto è stata registrata in 16 paesi, con più di 2700 sequenze riportate. La maggior parte delle sequenze proviene dall'India. La prevalenza globale di questa Omicron 2.75 risulta più elevata dal 3 al 9 luglio ed è poi diminuita nelle ultime settimane. Ma non è noto, conclude l'Organizzazione Mondiale della Sanità, se si tratta di un reale calo, ossia il risultato di un ritardo nelle sequenze. La variante dominante si conferma ancora Omicron 5, con il 74% nel mondo. Intanto io vi posso raccontare anche di altre notizie. Ad esempio, i programmi si stanno sfidando sul fisco, però di questo ve ne parlo direttamente in un altro articolo, anche perché poi ne abbiamo parlato assolutamente ieri. Ma di quanto aumentano le pensioni e gli stipendi con il taglio del cuneo fiscale? Le pensioni aumenteranno di un 2% da settembre e poi di un altro 6% a gennaio, quindi viene anticipata la rivalutazione delle pensioni. L'8% più o meno è l'inflazione, quindi verranno rivalutate di almeno un 8%. Mentre per quanto riguarda gli stipendi, che cosa cambia? Parliamo di un reddito di circa 35.000 euro. La decontribuzione dell'1,2% per i lavoratori dipendenti si tradurrà in un beneficio mensile che va dagli 8,3 euro al mese ai 32,2 euro al mese lordi. Ad esempio, chi ha un reddito di 35.000 euro avrà un aumento di 32,3 euro lordi, 20 euro netti al mese, per chi ha uno stipendio di 35.000 euro lordi. Chi ha uno stipendio che si aggira intorno ai 25.000 euro lordi, avrà 23 euro lordi in più al mese, vuol dire circa 18-19 euro netti al mese. Mentre chi ha un reddito di 15.000 euro, si troverà 14-13,8 euro lordi, che corrispondono a 7-8 euro netti al mese, con circa 15.000 euro lordi. Mentre chi ha un reddito intorno ai 10.000 euro, avrà 9 euro lordi, vuol dire tipo 6 euro netti al mese in più. Mentre chi avrà un reddito, ad esempio, di 9.000 euro, avrà 8 euro in più lordi, si parla di 6 euro netti al mese in più. Non al giorno, eh? Al mese. Vuol dire che al giorno si parla di centesimi in più al giorno. Per intenderci non ci compri neanche un caffè al bar con l'aumento che c'è. Magari ci compri 3 caffè in più al mese, ecco. Come vi dicevo, invece, per le pensioni ci sarà una rivalutazione del 2%. Cosa vuol dire? Che una pensione di 1.000 euro avrà 20 euro in più al mese. Una pensione di 2.000 euro ne avrà 40 euro in più al mese. Poi, da gennaio, dovrebbero aggiungersi un altro 6%. Quindi, su una pensione da 1.000 euro dovrebbe aggiungersi un altro 60 euro. 60 euro più 20, una pensione da 1.000 euro a gennaio risulterà una pensione da 1.080 euro, circa. Una pensione da 2.000 euro sarà tipo 2.160 euro. Una pensione da 500 euro avrà un incremento di 40 euro. 540 euro diventerà. Ecco, però questo è un innalzamento che è pari all'inflazione dell'anno. Viene anticipata di un 2% adesso per aiutare i pensionati a far quadrare un po' più i conti. Beh, insomma, con quel 2% in più alla faccia del quadramento dei conti. Comunque, questo diciamo è quello che passa il convento. Quindi, questo taglio del cuneo fiscale, non delle pensioni ma per gli stipendi, è un taglio momentaneo, attenzione, è un taglio momentaneo per qualche mese, se non sbaglio è fino a dicembre, pertanto si parla di un certo numero di euro che andranno appunto da luglio a dicembre, da luglio a dicembre, quindi luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre. 6 mesi, quindi se voi avete un aumento di 9 euro lordi o 10 euro lordi, saranno per 6 mesi 60 euro lordi, circa 50, 55, 50 euro netti. Quindi non è un qualcosa di fisso, strutturale nel vostro stipendio, ma è una cosa che è una data di termine. Perché? Perché lo Stato non ha soldi. E quindi ha bisogno di ritornare alla situazione di prima per poter far quadrare i conti. Questo è per ricordarlo a quelli che dicono cuneo fiscale, e lo ripetono come dei pappagalli, visto che il loro capo politico ha detto cuneo fiscale. Cuneo fiscale vuol dire abbassare le tasse sul lavoro. E come fai ad abbassarli in un paese che non ha i soldi per fare nulla? Per quello che vi fanno un piccolo taglio del cuneo fiscale, per fare una roba simbolica, invece il governo ha abbassato le tasse, e poi a dicembre, a gennaio, le tasse ritornano come prima. Perché lo Stato non ne può fare a meno. Grazie a tutti e arrivederci.